In questa puntata parliamo di ClickFun Marketing di un corso Udemy Inbox Zero Miglioramento continuo La community dei digi imprenditori Diario di due imprenditori digitali Il podcast dove condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo ragionando insieme per far crescere i nostri business online utilizzando il digitale Un dietro le quinte in cui vi raccontiamo la nostra avventura di business online Gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati Sono Daniele Besana di WPOK.it Servizio di supporto WordPress ad abbonamento Prezzo fisso e risultato garantito per piccole aziende professionisti Sono Marco Gatti di PresentazioneAnimata.it Un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a far comprendere meglio il tuo prodotto e il tuo servizio Aggiornato ogni due settimane di venerdì Ciao Daniele! Come ti sento lontano oggi? Ciao Marco! Eh, mi sa che oggi siamo lontani sì! Io sono in Medio Oriente, sono in Arabia Saudita, al caldino anche se qua si lamentano del freddo, ci sono solo 20 gradi però sempre meglio che la neve di quando sono partito dall'Italia Tu dove ti trovi? Io a sorpresa mi trovo in Italia In realtà Marco ero in viaggio con un amico per arrivare a Gran Canaria perché abbiamo deciso di passare qualche giorno alla Spalmas Ho fatto Scalomburgo quando è arrivata una di quelle brutte notizie familiari che ti fanno cambiare i piani al volo e quindi sono sceso in Italia Per fortuna è stato un falso allarme, niente di grave però sono qui in Italia dove rimarrò ancora per qualche giorno comunque contro la situazione Ci sono tante sfighe però se devo guardare al positivo posso dire che sono contento innanzitutto di avere un lavoro che mi permette di non essere legato ad un ufficio quindi di poter essere vicino alla famiglia quando serve e poi anche la soddisfazione di aver costruito un business che certo passivo non è però mi permette di allontanarmi un po' quando è necessario senza che si blocchi tutto Anch'io in realtà in queste ultime due settimane ho passato un po' da imprenditore digitale sono sceso sul campo sono stato tre giorni in Polonia una settimana in Arabia Saudita a fare incontri faccia a faccia con grossi clienti Ho un po' abbandonato il digitale anche se devo dire che tutti i clienti che mi sono arrivati dall'Arabia Saudita tutti i clienti sono arrivati attraverso il digitale attraverso la lead generation Ho lavorato un po' poco sulla tecnica ho lavorato molto di più sui rapporti intrapersonali Quello che ho visto qui in Arabia Saudita è che in realtà mi sembra come il business funzionava da noi 20 anni fa mi sto ritarando come quando ho iniziato a lavorare io però è tutta esperienza è un po' come quando noi guardiamo in America quello che succede nel digital in America e lo vediamo poi arrivare in uno o due anni in Italia è un po' come avere la sfera di cristallo che vede nel futuro Interessante Cosa ci racconti l'Arabia Saudita? È uno dei paesi più inaccessibili in realtà perché o ci vai per lavoro con una business visa o come turista forse si è aperto recentemente ai visti turistici Guarda, a parte le disavventure per avere il visto perché sono molto fiscali la customer experience è veramente un disastro abbiamo dovuto fare tre volte la domanda per fare il visto la prima volta perché ho fatto il visto business ma in realtà ho scoperto me l'hanno detto dopo che il visto business è solo per chi viene in Arabia a investire soldi e non a fare incontri commerciali Allora ho fatto il visto quello commerciale è andato tutto bene a me mentre il mio collaboratore che è ingegnere non gli hanno dato il visto commercial perché gli ingegneri non fanno commercial ma fanno technical per cui lui è dovuto tornare la terza volta per far avere il visto technical a parte tutto ciò sono arrivato con tanti pregiudizi in Arabia Saudita alcuni su come trattano le donne ce li ho ancora la gente l'ho trovata molto ospitale questo sì di solito è sempre così quando si viene per business sul volo c'erano anche dei turisti che sembravano molto fai da te zaino in spalla sicuramente c'è anche questo turistico qui è in bassissima stagione per cui aerei vuoti alberghi vuoti meglio così per me l'altra cosa è che è arrivato Uber anche in Arabia Saudita mi hanno detto che oltre Uber c'è anche un'applicazione locale in arabo che fa più o meno tutte le aree del golfo per cui anche qui la tecnologia sta facendo passi da gigante bene Marco andiamo ai ringraziamenti chi dobbiamo ringraziare in questa puntata? ringraziamo Andrea Greco che ci ha lasciato una recensione su iTunes consigliatissimo a tutti Marco e Daniele condividono generosamente direi i successi e falimenti della vita da imprenditore digitale ogni puntata trovi consigli e spunti preziosissimi su tanti temi molto utili alla vita di un digi imprenditore ascoltare questo podcast e partecipare alla relativa community su Telegram è d'obbligo grazie Andrea invitiamo tutti quanti a lasciarci delle recensioni su iTunes che sono comunque da stimolo per noi ci aiutano a farci conoscere e quindi altri digi imprenditori possono trovare questo podcast utile per la loro attività grazie Andrea siamo arrivati a 33 recensioni ricordo abbiamo 35 35 35 35 ok abbiamo l'obiettivo delle 50 recensioni per organizzare poi un evento dal vivo una pizzata dal vivo dei digi imprenditori ricordo anche se volete essere coinvolti nel gruppo dei digi imprenditori abbiamo questo gruppo Telegram dove ci conosciamo meglio e dove sono partite alcune attività in particolare è partito un mastermind digi imprenditori è partito un coffee lean di cui parliamo tra poco ed è partito anche un gruppo dedicato a chi sta creando corsi online in questo momento siamo 89 digi imprenditori nel gruppo Telegram se ti vuoi dire anche tu trovi il link nelle note dell'episodio Daniele nell'ultima puntata avevo parlato della mia esperienza al Grow Hacking Day e ho ricevuto un commento da parte di Raffaele Gaito che è uno dei quattro Grow Hacker che hanno organizzato l'evento dice che occhio che il funnel A-A-A-R-R-R non è il funnel di acquisizione ma è un framework per definire il ciclo di vita dell'utente e organizzare le metriche l'uso della parola funnel può trarre in inganno ma non ha nulla a che fare con il funnel marketing e con la realizzazione di funnel di acquisizione in questo caso si chiama funnel giusto prendere l'idea dell'imbuto che da ogni passaggio perde utenti ma se lo immaginiamo come una ruota il concetto resta lo stesso Raffaele grazie di questa precisazione Daniele come sono andate le due settimane precedenti? il mio obiettivo era di finire il corso Udemy perché stavo creando un corso Udemy che parla di manutenzione di siti WordPress e poi fare anche il lancio di questo corso devo dire che l'obiettivo è centrato mi ha aiutato moltissimo il fatto di avere un solo obiettivo ben definito in realtà questo è stato l'obiettivo di tutto il mese di gennaio perché questa attività di creare un corso quindi fare dei video con l'illuminazione giusta eccetera credo che sia una di quelle cose che o fai in poco tempo ci dedichi veramente del tempo e ti dai un limite che ti spinge a essere concentrato oppure rischia di trascinarsi per tanto tanto tempo quindi sono contento che gli ho dedicato tutto un mese a questa cosa fatta finita e poi ho fatto la parte di lancio che voglio approfondire un po' più avanti in questo episodio tu Marco gli obiettivi delle due settimane precedenti come sono andati? io avevo tre obiettivi uno era per colpa mia tra l'altro uno per colpa tua era quello di fare la richiesta su Amazon per i crediti per i 15.000 dollari di crediti su Amazon obiettivo non so se dirti se è fallito o riuscito perché mi sono messo d'impegno sono andato sul sito di Amazon sono andato per compilare il tutto in realtà mi sono detto ma io cosa me ne faccio di questo AWS i crediti AWS che io AWS non utilizzo e quindi ho messo la buona volontà ma alla fine ho detto a che pro e quindi poi non sono andato avanti con la richiesta di Amazon dovevo fare la landing page per l'ebook ho fatto la landing page ho fatto il funnel quindi tutta l'automazione con ActiveCampaign mi manca di portare traffico attraverso campagne Facebook e poi ho fatto il corso aumenta il tuo giro d'affari e la fedeltà dei tuoi clienti con i podcast del nostro amico e compagno di Mastermind Paolo Pugni il corso l'ho fatto interessante e un po' va a sviscerare come si può utilizzare il podcast all'interno di un'azienda non è proprio il podcast quello che facciamo io e te Daniele che è un po' un confronto tra noi è più su un podcast per chi ha un'azienda che vuole promuovere i propri prodotti e servizi ricordiamo anche che Paolo Pugni ha due podcast il primo è vendere valore dove proprio parla di vendita e l'altro è imprenditori di successo che insieme a Francesco Smorgoni parlano cosa devono fare gli imprenditori per avere successo Marco ho seguito anch'io il corso di Paolo e l'ho trovato molto interessante tra l'altro è proprio una persona che ha un'eloquenza che è affascinante spiega proprio le cose bene in un modo molto chiaro molto posato ha nominato anche noi nel corso cosa che mi ha fatto molto piacere e mi ha sorpreso sembra che siamo dei podcaster veri effettivamente siamo dei podcaster questo fa molto figo Daniele anche quando ero all'estero quando ero in Polonia c'era la gente guarda vai su iTunes cerca Marco Gatti mi trovavano poi dopo non ne capivano niente perché erano italiani però fa la sua scena su cosa hai lavorato allora in queste due settimane beh Marco riprendo il discorso del corso Udemy per spiegare un attimo come ho fatto il lancio ok ho diviso il lancio in due parti il soft launch e il lancio vero il soft launch è stato una parte insomma prima di annunciare al mondo che esisteva questo corso ho voluto ho voluto annunciarlo a una cerchia ristretta di persone che mi conoscono persone da cui volevo dei feedback quindi sono partito dai compagni di Mastermind sia il Digital Mastermind con Giulio Gaudiano che il Mastermind dei Digi Imprenditori quindi ho dato accesso gratuito al corso ho ricevuto dei feedback molto interessanti e ho anche raccolto qualche recensione amica diciamo che ovviamente sono cose che aiutano il corso a avere più credibilità e anche a avere un posizionamento migliore all'interno di Udemy anche se ti dirò se tu cerchi manutenzione su Udemy non importa se stai cercando manutenzione della caldaia o manutenzione di una motocicletta o manutenzione di un sito WordPress esce solo il mio corso quindi è l'unico corso che parla di manutenzione in generale su Udemy dopo questo primo passo ho regalato il corso ai clienti abbonati perché in realtà è anche grazie a loro che ho potuto creare questo corso perché il corso ovviamente si basa sulla nostra esperienza come WPOK mantenendo e gestendo siti di tanti clienti e quindi i clienti hanno contribuito senza saperlo al materiale che c'è nel corso immagino che tanti si siano chiesti ma perché mi regali il corso che tanto la manutenzione la fate voi però ti dico mi è sembrato giusto darlo in regalo e se loro vogliono contribuire alla causa di rendere le persone più consapevoli dell'importanza che ha a fare manutenzione al proprio sito lo possono regalare a qualcuno terza fase è stato invece un po' più nella parte di lancio vera e propria dove ho annunciato prima su tutti i social e quindi parlo di Facebook LinkedIn e Instagram ho annunciato il corso con uno sconto un'offerta lancio quindi e ti dirò quando avevo poche speranze su Instagram perché l'ho messo in una Instagram story in realtà è arrivato un cliente pagante anche da lì poi ho mandato un'offerta e questa è proprio una cosa di oggi stesso ho mandato l'offerta ai clienti che sono che non sono abbonati quindi clienti di WPOK dove noi non facciamo una manutenzione costitiva tanto del sito e lì il messaggio è stato del tipo magari non sei ancora pronto ad attivare un abbonamento con WPOK quindi ti offro il corso a un perso scontato se vuoi approfondire questo tema che cosa mi manca per completare la fase di lancio vera e propria allora non ho ancora mandato un messaggio tramite WOK WOK è il nostro chatbot messenger ed è un canale che utilizzo per tenere le persone informate su argomenti legati a WordPress e non ho non ho ancora mandato il messaggio lì e poi su YouTube sul canale YouTube volevo fare una cosa che non ho mai provato prima cioè io di solito ho utilizzato il canale di YouTube per mettere dei video con delle informazioni o con delle delle guide stavolta voglio utilizzarlo un po' più come un canale per raggiungere chi è già ha già fatto chi già segue il canale e informarli informarlo di questa novità capito un uso un po' un po' diverso cioè invece di essere su YouTube per raggiungere nuove persone che non conoscono WOK vorrei fare un video per chi già segue il canale per quelle 300 e qualcosa persone che seguono il canale ho notato una cosa strana sulle recensioni di Udemy perché Udemy innanzitutto chiede molto presto quando si segue un corso chiede molto presto di lasciare una recensione che poi si può modificare più avanti si può anche modificare alla fine del corso però alcune recensioni appaiono e altre no ovviamente ho pensato magari appaiono solo le recensioni di chi completa il corso di chi raggiunge una certa percentuale di completamento in realtà no sono comparse recensioni di persone che hanno visto il 20% nel corso e non sono comparse recensioni di persone che hanno visto il 100% non ho capito bene con che logica opera ho sentito da altre persone dire che Udemy blocca in base a dei criteri degli algoritmi dei sistemi suoi delle review che pensa non siano corrette non siano oneste non so però ecco questa è una cosa che ho notato solo alcune recensioni sono apparse chiudo questo aggiornamento su Udemy con i dati di lancio visto che tutti oramai siamo abituati a sentire lanci a 6 cifre business incredibili che scalano grazie all'infoprodotti e ai corsi vi posso dire che ad oggi ho guadagnato 69 dollari a parte gli scherzi non era mio obiettivo fare soldi insomma non è l'obiettivo per cui ho fatto il corso perché come dicevo l'altra volta il corso è più per creare autorità però sono soddisfatto 69 dollari vi ripago quantomeno le luci che ho comprato per farmi il set in casa e poi vedremo come va insomma nel corso del tempo è uno di quegli asset che potrebbe portare qualche cosa in cassa ogni mese quindi bene Daniele ho ricevuto anch'io la tonela in cui annunciavi a tutti i tuoi clienti il corso e mi chiedevo ma come mi manda una mail per dimmi del corso che beh ha già detto lo so già in realtà poi ho realizzato che sono le mailing che vengono mandate a tutti e non profilate o meglio è difficile profilare tantissimo e benissimo i clienti tirare fuori quelli che magari hai già contattato in un altro modo chissà anch'io quante volte mando delle mail che magari potrei o evitare di mandare o mandare in un altro modo Daniele io la puntata scorsa avevo raccontato la mia disavventura con ClickFunnel ero tutto gasato di aver fatto la nuova landing page con ClickFunnel che era molto più bella molto più figa molto più attrattiva almeno dal mio punto di vista ed ero passato da una conversione del 30 a una conversione del 5% sì e non mi capacitavo di quello che era successo finché una mattina appena svegliato ho avuto un'illuminazione e loro ho detto fammi provare sono andato a vedere sono andato a provare e effettivamente ho scoperto qual era l'inghippo l'inghippo era perché ClickFunnel quando si fanno i form per la GDPR ci deve essere la spunta di accetto la policy e le condizioni d'uso questa spunta io l'avevo messa in due o tre posti diversi sulla landing page quindi l'avevo messa all'inizio nel footer e nel pop up ClickFunnel in realtà ragiona in questi tre form diversi come se fosse un form tutt'uno un unico form e quindi per poter far andare avanti l'operazione e quindi mandare avanti il form lui richiedeva che ci fosse la spunta su tutti e tre i checkbox di accetto cosa che poi tra l'altro ho trovato andandomi a vedere le heatmap ho visto dei percorsi fatti dal cliente e c'era uno di sto cliente che continuava a cliccare su scarica il listino scarica il listino non gli arrivava niente poi probabilmente ho beccato un cliente smart lui è andato avanti si è guardato il form è andato in fondo nel footer ha fatto la spunta anche nel footer e non funzionava gli si è aperto poi il pop up ha spuntato il pop up e è andato avanti ecco perché invece di avere lo 0% avevo il 5% di conversione perché qualcuno era molto smart e perseverante fosse stato lo 0% era rimasto molto sicuro che il problema fosse stato tecnico di clickfun invece avendo avuto una percentuale pur bassa del 5% diceva qualcuno va avanti procede lo scarica quindi sistemato il tutto ho riattivato il tutto e ho fatto una bitest perché in molti dicono che quando vuoi scaricare qualcosa invece di mettere il form con scarica gli dici scarica e ti si apre il pop up dove metti i dati molta gente si blocca a mettere i dati all'inizio se ha il form sulla landing mentre se invece prima schiaccia e gli compare il form dopo è molto più propenso a compilare il form ti posso dire che ho controllato i dati effettivamente ho una conversione maggiore a non mettere il form all'inizio ma solo nel pop up e la conversione adesso è del 34% quindi passando questa pagina su click funnel ho portato la conversione da quella che era il 30 al 34% che quindi 4 su 30 è comunque avere un 10% o più di clienti che mi lasciano l'email e si scaricano il listino cosa molto 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 interessante a questo punto ho approvato la variante quella funzionante e ne ho attivato un'altra adesso quello che sto testando è scarica il listino con il pulsante blu e scarica il listino con il pulsante rosso che cosa succederà non lo so l'ho appena attivato stamattina nella prossima puntata spero di avere dei dati interessanti da condividere con te e con i nostri ascoltatori Marco sai che sono sempre un po' dubbioso su l'AV testing di cose così specifiche cioè il pulsante blu e il pulsante rosso assolutamente sono d'accordo anch'io però sto sperimentando sulla mia pelle quello che generalmente leggo nei blog e che anche i piccoli dettagli contano il fatto che la gente arrivi sulla pagina contattasse e non ti contatta per me è sempre stato un mistero no? cioè se io vado nei contattasse perché ti voglio contattare se no non vado nella pagina contattasse eppure è così e leggendo ci sono conversioni che convertono molto di più solo cambiando un colore siccome sono in viaggio sono all'estero adesso quando torno dovrò ripartire per altri viaggi la cosa più semplice era fare questo abitest del bottone ci ho impienso tre minuti forse meno a farlo e ho detto beh poi fra due settimane ne ho altri abitest da fare e pian pianino vado a a vedere come ottimizzare il tutto da bravo piccolo grow hacker bene la teoria di un passetto alla volta ottimo sì nelle varie fasi di conversione del cliente quindi della customer journey tu vai a migliorare in ogni passaggio la percentuale di conversione alla fine la parte finale dell'imbuto diventa più larga ho lavorato anche sui facebook ads ho finito la mia ricerca di un collaboratore che mi aiutasse con i facebook ads ho trovato questo ragazzo che ho conosciuto tra l'altro al growing day il quale da una settimana sta lavorando sugli annunci sta facendo tanti test solo facendo il il retargeting che prima non facevo il costo per lead si è dimezzato quindi non basta fare un annuncio a facebook ma bisogna veramente farne tanti e fare tanti test questa è la filosofia che sto portando avanti con questo ragazzo in modo da vedere anche testare più audience vedere che risultati si hanno adesso abbiamo i primi risultati dei primi giorni attendiamo di avere dei numeri più interessanti quello che vedo c'è tantissimo più traffico sul sito e tantissima più gente che interagisce e ci lascia l'email non ho ancora i numeri sotto mano non li ho tirati giù ma per ogni lead mi arriva la notifica via mail e ne vedo tante bene mi ricollego un po' a questo approccio dei miglioramenti incrementali per dirti che sto leggendo un libro che in inglese si chiama One Small Step Can Change Your Life The Kaizen Way in italiano è un piccolo passo un piccolo passo può cambiarti la vita il metodo Kaizen applicato alla realtà di tutti i giorni che non so perché i titoli in italiano sono sempre un po' meno belli però parla del metodo Kaizen che è proprio una filosofia la filosofia dei piccoli passi invece di fare una rivoluzione o introdurre dei cambiamenti come rivoluzione o come innovazione quindi con dei grossi cambi introdurre i cambiamenti spezzettandoli in piccoli passi che sembra che magari non stai andando a nessuna parte però in realtà nel tempo di strada ne fai tanta è un po' troppo presto per commentare o raccomandare questo libro però lo sto leggendo con grande interesse e voglio assolutamente implementare un po' di queste nozioni sicuramente avrei sentito anche tu parlare di questa metodologia questo approccio Kaizen ce ne aveva parlato un nostro compagno di mastermind che è specializzato nell'approccio Lean che tra l'altro è uno dei nostri ascoltatori e fa parte della community metodo Kaizen è quello del miglioramento continuo in realtà quello che vedo è che con termini altisonanti tipo grow hacking si vanno a riprendere delle cose filosofiche di una volta cioè non stiamo cambiando molto stiamo dando dei nomi altisonanti a qualcosa che già si applicava anche in altri settori vero Marco un'altra cosa su cui ho lavorato e su cui voglio dare un update è la pulizia della lista con Active Campaign oramai due episodi fa avevo parlato di questa di questa attività che ho fatto su una lista che oramai ha dieci anni di vita e contava undicimila iscritti più di undicimila iscritti molti dei quali però erano risultavano attivi allora prima di fare la pulizia ho creato un'automazione con Active Campaign dove ho inviato una serie di tre email chiedendo di cliccare su un link se ancora se la persona è ancora interessata a continuare vuole continuare a ricevere le informazioni e questo perché avevo dei dubbi sul tracciamento delle open rate click rate e volevo evitare di cancellare persone che in realtà erano ancora attive in realtà ha portato risultati molto molto inferiori di quelli che mi aspettavo e di quelli che avevo visto con una pulizia precedente fatta con MailChimp non so se è una differenza che ha a che fare con le tipologie di tracciamento che utilizzano loro comunque su 6301 contatti finora ne ho recuperati 29 cioè 29 hanno detto che sono ancora interessati tutti gli altri 6200 eccetera non si sono né visti né sentiti né cliccando sul link né visitando il sito quindi ho cercato di fare un doppio tracciamento proprio per evitare che se non funziona il tracciamento sui click delle mail mi aspetto che perlomeno funziona il tracciamento sul sito quindi pochi risultati in realtà non so se è una cosa positiva o no cioè positivo che almeno so che posso eliminarli senza remore e che risparmierò dei soldi sull'abbonamento al software di mail perché funziona ovviamente in base ai contatti attivi che hai ma questo dopo che avevi mandato tutta la sequenza questo dopo che ho mandato la sequenza sì sequenza di tre mail mandate in giorni una settimana in giorni della settimana e orari diversi per cercare di dare un po' di di varietà alla sequenza bene Daniele sai che uno dei miei obiettivi che avevo all'inizio quando avevo iniziato il podcast era quello di andare in box zero e pian pianino mi ero impegnato ed ero arrivato a ottimi risultati dopodiché non ho più parlato ma mi sono un po' lasciato andare e la mia inbox è ritornata a mille messaggi allora quando ero in aereo da Milano a Riad ho detto pulisco le mail e mi sono messo lì alla cremente questo no questo lo tengo questo lo devo fare questo lo cancello ho fatto un bel lavoro ci avevo fatto un paio d'ore e sono arrivato a 80 mail su mille cioè stavo bene ma sai come quando fai le pulizie che è tutto in ordine e stai bene proprio psicologicamente fa tutto ciò torno in albergo mi collego a internet non so cos'è successo probabilmente è una questione di protocollo IMAP da vabbè da mille ero passato 80 me ne sono trovati 300 immagino che sia dovuto al cellulare dove non ho tutta la casella IMAP ma ho solo gli ultimi messaggi che ci sia stato qualche problema di sincronizzazione tra il server il cellulare il computer nonostante tutto ciò mi sono rimesso lì e di nuovo ho ripulito tutto così sono adesso con questa casella abbastanza vuota con dei numeri incredibili sto meglio quando vedo che ci sono pochi messaggi di cose da fare però sì su queste cose il problema è spesso riuscire a mantenere cioè ok ti puoi mettere lì un paio d'ore cancellare il grosso però tenere la situazione sotto controllo è molto difficile nel tempo anche perché poi basta un niente basta un viaggio basta un casino per qualche giorno e si fanno grossi passi indietro assolutamente sì però quello che ho constatato è che con il focus sai in aereo nessuno ti disturba ci sei solo te non ti arrivano altri messaggi non hai distrazioni mi sono bastate meno di due ore per sistemare più di mille main mentre quando sono al computer normalmente a lavorare questo lavoro non riesco a farlo quindi quello che ho capito è che mi devo imporre almeno una volta al mese un'ora e dire disattivo tutto in aereo sì devi fare un viaggio al mese devi fare un viaggio al mese in aereo esatto così con la pulizia doppia perché poi ho problemi di sincronizzazione guarda io spero che internet non arriverà mai sugli aerei perché veramente la cosa bella di passare tante ore sull'aereo è che sei completamente disconnesso e non hai rotture di scatole sono dei momenti che ho sull'aereo quelli che si chiamano il me time cioè il tempo tutto per me dedicato solo a me senza nessuna distrazione senza nessuna interruzione soprattutto Daniele viaggiando ultimamente così spesso volevo condividere quattro risorse che utilizzo quando sono in viaggio che spero possono essere utili sia te che ai nostri ascoltatori il primo è un sito che si chiama dateandtime.com che ti permette di comparare i fusi orari tra dove sei te o tra due tre posti diversi questo soprattutto per quando devo chiamare dei clienti in giro per il mondo perché non so mai se è mattina se è sera se è tarda mattina e quindi con questo sito posso anche dire se devo chiamarli alle nove e mezza del mattino che ora è qui e riesco a farlo molto velocemente l'altra cosa che utilizzo è google che tu metti la città tipo riadd time automaticamente nella ricerca di google ti mette l'ora esatta nel paese che hai indicato anche se a volte non funziona perché se tu metti new york time anche se si chiama time ti viene fuori il giornale però molto spesso con le città viene fuori l'ora esatta la seconda risorsa è un sito quello della farnesina si chiama viaggiare sicuri dove hai tutte le indicazioni sui visti su se il posto è sicuro non è sicuro vaccinazioni richieste la terza risorsa che utilizzo si chiama justlanded.com appena atterrato dove trovi informazioni di carattere politico culturale di come la gente si comporta nel paese dove vai perché succedono delle cose che tu non ti puoi aspettare per esempio ho scoperto che in Arabia Saudita non devi far mai vedere le suole delle scarpe cioè tu l'avresti mai detto che mostrare le suole delle scarpe è un segno di dirsi rispetto però ci sono tutte queste chicche la quarta risorsa è un'app che mi piace tanto si chiama Ciceros che integra Wikipedia con Google Map tu lanci l'app inquadri un monumento e lui ti riconosce che monumento è ti apre la pagina di Wikipedia e con il play a voce ti legge qualcosa relativo al monumento che stai basta è un punta e clicca e l'ho provato in Polonia funziona l'ho provato qui in Arabia Saudita non funziona perché non ci sono i punti non c'è o non c'è niente da vedere o Wikipedia non ha le coordinate dei vari luoghi queste sono le quattro risorse che di solito utilizzo quando pianifico un viaggio all'estero per controllare l'ora in diversi fusi utilizzo worldtimebuddy.com che credo che sia simile a quello che dici tu così mi sembra di vedere guardando velocemente la home page worldtimebuddy ti permette graficamente di posizionare l'ora e di vedere subito qual è l'orario nelle altre città che scegli Daniele all'inizio abbiamo parlato di cosa sta succedendo nell'interno della nostra community puoi raccontare ai nostri ascoltatori del nostro mastermind sì abbiamo avuto la prima call due settimane fa siamo in sette persone e voglio raccontare un attimo come sono quali sono le regole che ci siamo dati perché possa essere di spunto altre persone per iniziare poi il loro gruppo mastermind magari cercando compagni proprio all'interno del nostro gruppo della nostra community su telegram beh le regole hanno a che fare con ogni quanto si fa la sessione di mastermind e nel nostro caso abbiamo scelto due settimane ogni due settimane è un tempo corretto non è troppo frequente non è troppo poco frequente insomma io trovo due settimane l'intervallo giusto la durata di ogni call è di un'ora e bisogna cercare per quanto possibile di stare all'interno di quest'ora nel rispetto del tempo di tutti quanti e poi mastermind ha una lunghezza prefissata perché non vuole diventare il gruppo degli amici che si trovano al bar il mercoledì sera ma vuole essere un gruppo di gente concentrata a realizzare alcuni degli obiettivi quindi questo primo mastermind avrà diciamo un ciclo di vita di tre mesi una call ogni due settimane un'ora per ogni call come sono strutturate le call nella prima mezz'ora si fa un round table quindi a turno ognuno prende la parola abbiamo diviso mezz'ora per il numero che siamo sette persone quindi non mi ricordo che numero era uscito però forse era quattro minuti a testa quindi ognuno ha quattro minuti per raccontare un po' che cosa sta facendo quali sfide sta affrontando e qualcosa che ha imparato nelle due settimane diciamo un mini podcast ecco finito questo giro si passa alla seconda mezz'ora della call dove c'è quello che viene chiamato hot seat nella hot seat che si tradotto è sedia calda a turno uno di noi si siede su questa sedia calda e a mezz'ora di tempo per presentare un problema che sta affrontando e insieme ragioniamo ci confrontiamo facendo domande dando suggerimenti o cercando di dare suggerimenti si ragiona insieme come se fossimo tante teste unite che ragionano su un problema abbiamo anche messo una regola per la preparazione della hot seat perché in mezz'ora spiegare un problema a persone che non conoscono la tua realtà può essere veramente difficile quindi un paio di giorni prima della telefonata chi è sulla hot seat ha il dovere di preparare un piccolo documento qualche frase di spiegazione un messaggio vocale nel nostro gruppo telegram dedicato in cui spiega quale sarà l'hot seat qual è l'argomento di cui vuole parlare e ci dà un po' di background per capire il contesto la prima call mi sembra che è andata molto bene abbiamo sforato con i tempi siamo andati un po' più lunghi di un'ora però c'erano sicuramente tante cose da dire come prima come prima call per me è stata molto interessante molto produttiva anche assolutamente molto utile e poi abbiamo continuato nella chat dedicata su telegram a discutere quello che non siamo riusciti a finire nel tempo che ci eravamo dati abbiamo anche fatto il primo link coffee grazie grazie ad Andrea Andrea Barilli che ha organizzato il tutto ci siamo ritrovati a bere questo caffè virtuale a cui una decina di gigi imprenditori la cosa molto carina è che eravamo sparsi in tutto il mondo io ero in Polonia Andrea era in Tunisia e c'era un altro ragazzo che era in Australia più altri italiani e link coffee come abbiamo già detto ognuno decide un argomento che si mette a votazione l'argomento che ha più voti si parla di quell'argomento e ognuno racconta la sua esperienza come può essere utile agli altri condividendo la sua conoscenza abbiamo parlato di come dare priorità a nuovi progetti da realizzare come far partire una strategia digitale abbiamo parlato del luogo di lavoro dei digi imprenditori insomma è stata cosa veramente interessante per chi è interessato a fare questo scambio con prendere questo caffè con digi imprenditori una volta al mese ci ritroviamo la mattina orario europeo e Andrea ha creato un canale Telegram dedicato nelle note dell'episodio c'è il link al canale Telegram per chi è interessato a partecipare al prossimo link off bene Marco quali sono i tuoi obiettivi per le prossime due settimane allora gli obiettivi delle prossime due settimane sono quelli uno di entrare in ufficio e capire cosa succede perché non capisco sempre come mai quando sono all'estero i miei collaboratori non si fanno vivi e riescono a fare tutte le cose quando io sono in ufficio non dico non riescono a fare niente ma ogni due per tre sono a chiedere un parere e un'opinione per cui non avendo ricevuto neanche una telefonata dai miei collaboratori a parte che tutto viaggia attraverso comunque la bacheca di Asana per i nostri task ho ricevuto qualche messaggio su Whatsapp però nessuna telefonata di urgenza quindi devo vedere qual è l'impatto nel momento in cui settimana prossima rientro in ufficio due obiettivi principalmente il primo è quello di finire il corso su WordPress Daniele il tuo corso che ho iniziato molto interessante ho visto che c'è tutta una parte sui plugin che mi interessa molto sempre per conoscere quello che poi bisogna delegare e poi andare avanti con il corso del Grow Hacking perché ho questo corso che mi ispira tantissimo dove il prossimo argomento sarà quello del Data Tracking e di come utilizzare Google Data Studio per tenere traccia delle conversioni sia per quanto riguarda Analytics che Google AdWords che Facebook AdWords è uno strumento gratuito di Google che veramente potrebbe ottimizzare la raccolta visualizzazione dei dati e soprattutto la condivisione dei dati con il team per stimolarli a porsi degli obiettivi e a vedere dei numeri per poterli raggiungere te Daniele che obiettivi hai? per me saranno due settimane del Kaizen cioè ho intenzione di finire il libro e applicare inserire applicare un po' di queste nozioni visto che ho dedicato tanto tempo nelle ultime settimane per il corso adesso mi manca un po' un grosso obiettivo però voglio spingere un po' in tutte le direzioni e quindi fare un discorso di piccoli passi avanti so che è poco misurabile però al momento ci metto dentro dai finire il libro e fare cinque piccole modifiche introdurre cinque piccoli passi avanti nel business bene ci aggiorniamo tra due settimane va bene marco ricordatevi di iscrivervi al nostro gruppo telegram per non perdervi le prossime puntate e lasciate delle recensioni fateci sapere cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto e benvengano anche i vostri suggerimenti sulle tematiche che abbiamo affrontato ringraziamo il nostro editore di un video web e se volete contattarci andate sul sito digimprenditore puntati oppure trovate i nostri dati nelle note dell'episodio a presto ciao marco in questa aspetta un attimo in questa puntata parliamo di aspetta marco l'ora esatta in quel posto ops no aspetta marco aspetta marco aspetta marco